Per mostrarvi l'utilità delle gallerie realizzate con gli stati oggetto utilizzerò un'applicazione che abbiamo realizzato nel 2012 che si chiama Flow Magazine, è una rivista interattiva che parla di psicologia positiva di creatività. Potete scaricarla dall'app store digitando nel campo di ricerca appunto Flow Magazine. Il numero che voglio mostrarvi è il numero 2, uno di quelli più vecchi che si trova appunto ancora sullo store e per mostrarvelo lo aprirò direttamente sul mio iPad. Questa è la copertina di questo numero, come vedete appunto risale a luglio del 2012. Sono presenti delle rubriche, toccando con il dito queste aree sono semplicemente degli stati oggetto, quindi ogni volta che io tocco compare lo stato oggetto sottostante che mi indica all'interno della rubrica di che cosa parlavamo in quel numero. Le rubriche sono sei e sono Visions, Words, Sounds, Mind, Body e People. Navigando, spostandoci in orizzontale possiamo leggere il contenuto della nostra rivista e questa rivista ha una caratteristica particolare che ruotando l'iPad i contenuti cambiano. Vi faccio vedere, ora ruoterò il mio iPad e i contenuti si sono modificati perché la rivista è stata impaginata in modalità doppia, in orizzontale e in verticale, quindi l'utente può navigare sia in modalità orizzontale che in modalità verticale come viene spiegato all'interno di ogni numero all'inizio della rivista, proprio perché il nome Flow sta anche nel flusso di lettura, quindi volevamo stimolare i nostri lettori affinché ruotassero il device per decidere qual era l'orientamento di lettura a loro più gradito. Se mi muovo all'interno della mia rivista e tocco lo schermo, in alto compare un menu di navigazione. All'interno di questo menu io mi vado a posizionare nella rubrica dei personaggi e in questo caso parlavamo di una ragazza che realizza per esempio fiori di zucchero, si chiama Sugar Garden, il suo sito internet e ruotando l'iPad accediamo alla galleria fotografica di creazioni che sono state fatte appunto da questa artista. Questi che vedete sono dei fiori di zucchero e sotto ci sono i pulsanti di navigazione realizzati con gli stati oggetto come vi ho mostrato all'interno dei filmati precedenti. Basterà toccare l'iconcina del fiore desiderato e vedere ingrandito il dettaglio di quell'opera. Sono dei fiori veramente bellissimi, sembrano veri, in realtà sono delle creazioni fatte con lo zucchero. Mi muovo ancora nel sommario di navigazione per andare su un altro contenuto, ad esempio desidero andare alla mostra che c'è stata a Cremona che parlava di privacy e qui ci sono in un foglio lungo verticale tutti gli scatti fotografici delle illustrazioni che erano state mostrate all'interno di questa mostra. C'è un'immagine iniziale e poi toccando, vedete, ogni miniatura qui sulla destra come indicato da questo pulsante si può accedere all'ingrandimento di ogni singola illustrazione. Mi sposto leggermente nella parte bassa perché ogni illustrazione sotto ha il nome, il titolo dell'opera e anche da chi è stata realizzata e i contatti di chi ha realizzato l'opera stessa perché poi queste illustrazioni sono andate a finire all'interno di un calendario che a quel tempo era possibile acquistare scaricandolo direttamente da internet. Quindi ogni pulsante porta a uno stato oggetto e sotto lo stato oggetto ci sono le informazioni di quella illustrazione. Se scorro in verticale posso scendere e accedere alla seconda parte della pagina dove c'è semplicemente la descrizione con uno stato oggetto, vedete che cambia lingua anche all'interno di questo stato oggetto e più giù c'è un pulsante che vi permette di acquistare il calendario con tutte le opere che erano descritte in questo articolo. Se ruoto il mio iPad in modalità verticale vado a vedere il foglio nel quale nell'articolo della rubrica visions parlavamo appunto di questa mostra, mostra che era venuta a Cremona e che parlava di privacy. In questo caso avevamo un testo scritto in verticale con il pulsante grazie allo stato oggetto si poteva cambiare la lingua e in fondo a questo testo lungo era presente una galleria della location dove si è svolta la mostra. Quindi è stato veramente utile poter utilizzare gli stati oggetto per muoversi all'interno di questo documento e rendere diciamo fruibile i contenuti di questa mostra. Grazie a tutti! Grazie a tutti!